Oggi punto sull'eleganza e mi concentro sulle labbra. Seguitemi! Ciao a tutte e bentornate oggi con me ancora, Serena per un trucco chic. Ciao Serena e bentornata. Grazie, ciao. Allora, oggi per Serena un trucco chic e elegante da sera. Punterò soprattutto sulle labbra. Iniziamo applicando il prime potion, il mio preferito. Come sempre, già la base l'ho fatta in precedenza. Allora, prime potion su tutto l'occhio. Ok, questo è un trucco adatto a una serata importante, a un evento. Procedo applicando dalla palette Naked di Urban Decay, il primo colore su tutta la pappola mobile. Quello più chiaro, Virgin. Dopodichia. Cambio pennello e prendo un po' di questo marroncino qui, che è più che marroncino è un rame. E vado a sapere dell'occhio. modulo, Quello più chiaro, 적절are l'octro. Bastare dolma solle. Bastare l'octro. A presto. Bastare l'octro. Bastare l'octro. Bastare l'octro. Basta dopo ci. Bastare l'octro. Bastare l'octro. Bastare l'octro. dopodiché eyeliner prendo il black truck di MAC il 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 Grazie a tutti. Dopo aver applicato l'eyeliner nella rima interna applico una matita nude. Questa è della Dolce Gabbana, la numero 6. Guarda su. Mascara. E uso i 24 ore di decora. E uso i 24 ore di decora. E adesso passiamo le labbra. Delineo le labbra con una matita rossa, che non è questa che ho preso, ma è questa qui. La porto in dentro. Dopodiché la vado a riempire con il rossetto dello stesso colore. Lo applico col pennello per essere più precisa. Allora. 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 Allora.